Allora, un saluto da Cuba, Vinales, Valle del Vinales, per la squadra dei credendari del Carnevale di Ivrea. Siamo con voi, sono con voi, anche se sono qui a Cuba. Vai! Allora, una notizia la dobbiamo dare perché sono i nostri amici. Carnevale di Ivrea, dal 16 al 21, comunque la preparazione è già cominciata, e in particolare il 19 di febbraio c'è la battaglia delle arance, che è la caratteristica specifica del Carnevale di Ivrea. I credentari, che sono i nostri amici, che sono i rappresentanti dei vari rioni, gli attivisti che creano e costruiscono il Carnevale, pare che abbiano una sorpresa per noi, non lo so cosa sarà. Comunque, insomma, lo sapete, è il Carnevale dove si fa la battaglia delle arance. C'è una antichissima tradizione, narra la leggenda che Violetta, che era la figlia di un mugnaio, avrebbe dovuto subire dal barone locale lo Ius Priminoctis, si è ribellata, il popolo lo ha aggredito, e da qui la tradizione della liberazione attraverso la battaglia delle arance. Ma poi, nei prossimi giorni, ci sono molti...